Ben trovati a questa puntata di La D, un programma che parla di donne, di diritti e di molte altre cose. Oggi abbiamo un ospite molto importante che ci racconterà la sua vita, una vita molto particolare, la sua storia. Ci vediamo tra poco. Buongiorno e bentrovati in questa puntata di La D. Oggi abbiamo un ospite straordinario, Vittorio Michele, detto Bobo, il figlio di Bettino Craxi. Ciao Bobo e ben arrivato. Buongiorno a te. Bobo è un politico italiano, lui è stato sottosegretario agli affari esteri con il secondo governo Prodi, esponente del Partito Socialista Italiano, ha militato in diversi raggruppamenti politici ed è un esperto di politica internazionale. In particolar modo negli ultimi anni segue la vicenda catelana, ha scritto anche un libro su questo argomento, su questo aspetto. È un grande tifoso del calcio, diciamo pure la squadra? Sì, certo. Il Milan. Suona straordinariamente bene la chitarra, come si può seguire anche su Instagram. Allora, ovviamente la parte da cui vogliamo partire è la tua posizione di figlio. Che cosa significa essere il figlio di un uomo così importante come Bettino Craxi? è l'unica cosa veramente straordinaria nelle cose che hai raccontato, nel senso che è stata una posizione straordinaria, nel senso che non era ordinario il fatto di essere già figli di uomino politico, non è un fatto normale, ma non perché ci sia una differenza. Che cosa vuol dire? Beh, perché comunque gli uomini politici di questa o di quell'epoca sono comunque uomini esposti, uomini e donne esposte, la vita pubblica ti espone, insomma, in un certo senso fa parte del tuo obbligo, della tua responsabilità e anche parte del tuo, diciamo, sacrificio. Nel caso, diciamo, che mi riguarda, riguarda la mia famiglia, riguarda la sua vita politica, la sua carriera politica, che come si sa è stata lunga, è anche abbastanza travagliata, è stata una storia di avventure, un'avventura non a lieto fine, però è stata appunto straordinaria nel senso che comunque è passata da una vittoria, una sconfitta, da un impegno gravoso come era quello di essere alla guida del governo in un momento così difficile del paese. Ricordiamo che tuo padre è stato il primo socialista poi a diventare presidente del Consiglio, è anche il simbolo, se vogliamo, di una certa modernizzazione di quella Italia, di quella società. E anche poi, a un certo punto, è stato diventato un po' il simbolo di una forma di degenerazione, se vogliamo, almeno è stata interpretata così, dell'attività e della politica. Ecco, come vivi tu come figlio, ma anche come politico attivo, questo passaggio, questa trasformazione? Beh, adesso c'è il vantaggio della distanza del tempo, no? Si dice, gli storici dicono che ci vuole vent'anni perché si sedimentino le passioni delle epoche e che si incominci ad analizzarle con quella freddezza che è necessaria. E quindi, quando sei dentro in quel grande calderone, non ti rendi esattamente conto di quello che sta succedendo. E sto parlando della parte, diciamo, finale, della parabola violenta, insomma, con cui alla fine questo potere è stato rovesciato, perché di questo si tratta. Cosa intendi quando dici potere rovesciato? Beh, in genere, diciamo, tu ti presenti alle elezioni, puoi vincere, puoi perdere, se perdi vai a casa e se vinci, diciamo, ti mettono, ti danno il potere. In quel caso, diciamo, loro si presentarono alle elezioni, le vinsero, nel senso che... Beh, all'epoca c'era il centro-sinistra, era composto dal cosiddetto pentapartito, e quindi era un quacervo di forze, dove dominante era la democrazia cristiana, con il partito socialista e i partiti laici. E quel blocco, diciamo, politico, quello schema politico, era quello che governava il paese, ha governato il paese dagli anni Ottanta fino al 1993. Perché fallì la stagione del compromesso storico, cosiddetto, perché non l'Italia, ma il mondo era diviso in due blocchi, e quindi c'era di fatto, noi appartenevamo alla sinistra, che non aveva aderito al campo comunista sovietico. Questa è la ragione, diciamo, della divisione, la logica di Yalta, chiamiamola così, come la chiamava Gianni De Michelis. Quindi io dicevo, vinsero le elezioni nel 1992, ma contemporaneamente si aprì, o si scoperchiò il cosiddetto vaso del finanziamento illegale ai partiti, e questo sistema di finanziamento illegale, la lotta contro il finanziamento illegale, divampò fino a rovesciare tutti quanti i partiti, scomparvero, lo dico per i più giovani, che magari non hanno vissuto, scomparvero cinque partiti, e quindi per questo dico, ci fu un rovescio abbastanza rapido, abbastanza violento, perché non soltanto c'erano le inchieste, queste ci sono anche adesso, ma ci fu un grande sommovimento, diciamo, di popolo, soprattutto di opinione pubblica, di opinion leader, di sistema mediatico, che in qualche modo imputava questo gruppo dirigente, l'insieme del gruppo dirigente, di essere innanzitutto un gruppo dirigente corrotto. Invece? Sostanzialmente, no, invece nulla, nel senso che non è che il punto non era la corruzione, il punto è che l'elemento endemico del finanziamento ai partiti, partiti che era proprio del sistema, diciamo, creato nel dopoguerra, partiti, non dimentichiamo, rappresentavano una società organica nel nostro paese. Erano molto diversi da quelli che abbiamo, la struttura. Avevano una forma anche asfissiante di controllo della cosa pubblica e non solo, erano qualche cosa che rappresentavano, infatti i cittadini si rispecchiavano più in essi. Da qui, diciamo, fu tralasciato l'elemento, che è un elemento fondamentale, cioè quello di come ritrovare le risorse per far andare le macchine. Le macchine erano poderose, i sistemi organizzativi imponevano in qualche modo la necessità di avere maggiore denaro, però certo, a un certo punto questa cosa persa il controllo. E si aprirono queste inchieste, la magistratura non aveva mai indagato sul finanziamento dei partiti, lo fece in quel frangente, ma sostanzialmente perché venne meno, ma non vorrei farla troppo lunga, venne meno la ragione stessa di quell'equilibrio politico. Una volta che cade il muro di Berlino si rovesciano le ragioni per cui, diciamo, quel sistema stava in piedi politicamente e avvenne l'effetto classico paradosso, cioè che le forze dell'Occidente o le forze che avevano determinato, garantito, stabilità e soprattutto avevano garantito che l'Italia rimanesse in questo blocco politico occidentale, furono travolte quando il blocco occidentale ha la meglio sul blocco sovietico comunista. Diciamo, questo fu l'effetto paradossale della rivoluzione italiana. Dentro un contesto internazionale. L'Italia italiana che alla fine vinse Berlusconi, questa è una cosa anche più divertente. Questo è molto italiano, nel senso che a un certo punto c'è l'imprevisto, e l'imprevisto è di un signore che poi alla fine è stato il dominus della politica italiana per quasi vent'anni, insomma, fino all'altro ieri. Fino anche alle elezioni europee. È durato molto di più il potere o comunque la longevità politica di Berlusconi rispetto anche a quella di mio padre o di altri uomini politici. Sì, anche perché tuo padre poi, diciamo, si è ammalato e quindi... No, mio padre riparò all'estero dopo queste vicende giudiziarie, dove rimase sette anni e poi morì. Parliamo del 2000, quest'anno si celebra il ventesimo anniversario della sua scomparsa. E quindi, tornando alla domanda principale, straordinario, sì, certo è stata straordinaria l'esperienza. Come la vivevate voi in famiglia, questa figura paterna così tanto esposta pubblicamente? Quanto ha pesato nella tua vita proprio tua, personale? Ma intanto io ero ragazzo, certamente che influiva questa vicenda, però è vero che anche noi facciamo la vita assolutamente normale. Cioè io mi accorsi che lui, diciamo, che la nostra vita sarebbe cambiata dopo il rapimento di Aldo Moro. Perché una mattina, mi ricordo, mi svegliai, abitavamo a Milano, e sotto casa c'era una macchina di agenti in borghese o di agenti addirittura in divisa. E quindi avevo capito che gli avevano assegnato una scorta e che quindi bisognava essere più prudenti. Milano, intendiamoci, negli anni 70, anche negli occhi di bambino me la ricordo comunque come una città attraversata da incidenti di piazza, di manifestazioni, morti, quello naturalmente si respirava quell'aria. C'erano gli anni di terrorismo, erano un clima molto acceso. Sì, era un clima che comunque anche un bambino in qualche modo respirava, pur non essendone coinvolto. Non posso dire che non mi ricordo benissimo le manifestazioni. Tra l'altro io andavo a scuola abbastanza, in una zona abbastanza centrale, vicino al Corriere della Sera. Lì, per esempio, ci furono diverse manifestazioni. Ma ho anche dei bei ricordi, intendiamoci. No, immagino. Tanto ricordi, però da quell'episodio mi resi conto che la sua vita, quando veniva a Milano, era in qualche modo condizionata da questo elemento. E poi, certo, ci sono state anche delle cose assai positive. Per esempio, ci racconti una cosa bella che ti ricordi, un'esperienza bella che ti ricordi di aver vissuto con tuo padre? Tante, immagino, qualcuna che resta maggiormente. No, guarda, ti dico le cose più private che mi ricordo di lui. Intanto, tieni conto che il rapporto nella sua quotidianità non viveva con noi, quindi in realtà era un rapporto abbastanza sporadico e, diciamo così, come immagino siano tutti quelli che sono figli di uomini politici impegnati, diciamo così. Ma insomma, che dovevano andare a prendersi i voti, che dovevano andare comunque, poi lui aveva la responsabilità di partito. No, io mi ricordo, e quindi ho recuperato questo rapporto dopo la caduta, quindi sostanzialmente io più adulto, io ormai già, diciamo, già sposato, sono stato due anni con lui fuori dal paese, e quindi bene o male, insomma, si è cementato un rapporto anche personale. Io ormai ero un uomo e tutto sommato a questo punto era più lui aver bisogno di me che non il contrario, cioè si era un po' rovesciato il rapporto di forza. No, invece da bambino mi ricordo le rare volte che è venuto a prendermi a scuola, questo, perché infatti mia madre mi raccontava, mi dice sempre, che ogni volta che veniva a prendermi a scuola, poche, io mi ammalavo, quindi era talmente un evento, talmente l'evento e l'emozione. E poi il fatto che non sapesse fare nulla, cioè in casa non era capace di fare nulla, di fare un uovo, mi ricordo una volta si presentò tardi, venne a casa con un compagno, mia madre non c'era, tra l'altro era una persona importante, perché era l'amministratore del partito dell'epoca, che era Nerionesi, che è un compagno, che credo sia ancora vivo, e mi dice, sai, sono qua con Nerio, dice, dobbiamo cenare, e mi dice, io non sono capace di fare nulla, beh, neanch'io mi ha detto. E quindi, abbiamo preso due uova, le abbiamo sbattute, perché nessuno di noi era, quello non era assolutamente, veramente era un totus politicus, e dà anche un po' fastidio l'idea di un politico che, dice, distante dalla vita quotidiana, e in realtà lui era, non era un uomo pratico per nulla, non aveva nessuna dimestichezza con tante cose normali della vita quotidiana, compresa appunto quella con il denaro, piuttosto che con il cibo, cose che noi normalmente diciamo, noi persone normali. Come viveva vostra madre la vita di suo marito, di tuo padre? Ma sai, erano anni, anni... Oltretutto è ancora viva tua mamma? Sì, sì, ma sai, quelle classiche persone che alla fine rinuncia alla propria vita, o comunque non avendo pensato per sé né una carriera, sono una volta cresciuti noi, e quindi l'unica cosa che quando era in salute, quando aveva, diciamo, la forza, lei fece, era molto attiva sia nell'opera nazionale Montessori, io ho fatto la scuola Montessori, di cui fu vicepresidente, e quindi aveva questa attività parallela sullo sviluppo delle scuole Montessori, tieni conto che Maria Montessori ha un'origine socialista, e quindi a Milano lei si dava molto da fare per sviluppare... Questo metodo scolastico, il metodo Montessori, molto noto per introdurre delle novità nel metodo educativo, si era rivoluzionario, molto libertario, perché era esattamente, si opponeva, ribaltava alla concezione autoritaria della scuola dell'Ottocento. Tutto oggi è un metodo che... Successivamente invece assunse la presidenza di un'associazione che faceva beneficenza, una lotta contro la distrofia muscolare, e glielo chiese il vecchio ingegnere Ferrari, l'associazione intestata Dino Ferrari. Però poi insomma abbandonò queste cose, insomma poi è successo quello che è successo, erano le sue uniche attività pubbliche, lei generalmente era molto riservata, quindi non concedere interviste, raramente lo seguiva nei viaggi di Stato, proprio quando era obbligata, o comunque non poteva fare a meno il Presidente del Consiglio di non presentarsi con la moglie, insomma è accaduto di qualche viaggio di Stato, però insomma faceva forza, per quanto fosse anche gratificante l'idea di viaggiare, di essere a fianco di un nuovo politico, così, ma insomma non tornava a casa volentieri, ecco di questo posso testimoniarlo. Veniva, naturalmente poi siccome anche lei era figlia di un socialista e quindi ha sempre partecipato in modo attivo. Non faceva quindi attività politica in modo attivo? No, però insomma è sempre stata sin da ragazza socialista, perché anche il nonno materno era socialista, un sindacalista socialista, e quindi non a caso appunto poi si sposò questo giovane che faceva attività politica, ma che non mai si sarebbe immaginata, avrebbe fatto carriera così come ha fatto mio padre. Quanto l'avedi trasformata la società italiana, ecco anche rispetto a questa tua vicenda familiare, in cui ovviamente le donne in quel momento erano più dedicate all'educazione dei figli, pur avendo una formazione come tua madre, come moltissime altre donne, in cui avrebbero potuto spendere le proprie capacità in qualsiasi ambito. Oggi secondo te in Italia, sei un grande osservatore di quello che succede nel nostro paese, ma anche di quello che succede in altri paesi, come interpreti il ruolo delle donne in Italia e negli altri paesi? C'è ancora tante differenze rispetto sia al passato che rispetto ad altri paesi? Dunque, separo le questioni, certamente sul piano del lavoro siamo veramente ancora molto indietro rispetto all'idea, all'elemento della parità, o comunque dell'equilibrio. Questo parli per l'Italia ovviamente. Sì, e penso anche che c'è tutta una cultura, purtroppo, che secondo me è figlia della religione, della religione prevalente, che dove sta ancora prevalendo un elemento, secondo me, conservatore, cioè quello di dire che il ruolo della donna, non nella società, ma sulla terra, diciamo, è un ruolo marginale, che devono procreare e soprattutto non devono, sento dei discorsi veramente molto arretrati, da un lato. Dall'altra, in realtà, le lotte del femminismo degli anni 70 hanno prodotto sicuramente una maggiore consapevolezza che si è ridistribuita anche verso di noi, verso noi uomini e verso i più giovani. E quindi tutta una serie di campagne, di battaglie a favore della procreazione assistita, piuttosto che del mantenimento da 194, piuttosto che la lotta contro il femminicidio, o l'indignazione per quando il ruolo della donna viene sminuito, come è avvenuto nel movimento, quello se non ora quando, certamente parziale, molto politicizzato, ma tuttavia che comunque corrispondeva a una certa sensibilità politica e sociale che nel nostro paese è certamente cresciuta. Quello che è invece un po', secondo me, non dico arretrato, ma è meno organizzato, è il movimento femminista in quanto tale. Cioè io vedo in Spagna, un'azione che frequento, in particolare la Catalogna, c'è una sensibilità femminista molto molto sviluppata. Che cosa intendi per sensibilità femminista? Beh, intendo che l'8 marzo, in una manifestazione, diciamo, nella manifestazione celebrativa dell'8 marzo, ci sono 400 mila persone in piazza, intendo questo. Uomini e donne. Uomini e donne, ma animato da donne soprattutto, che ci sono degli elementi, diciamo anche simbolici, che in qualche modo sopravvivono. e non conosco a fondo, forse è una società magari un filo più arretrata della nostra, loro fino agli anni 70 hanno avuto una dittatura, quindi bisogna anche immaginare che siamo in ritardo di almeno due decenni, o due decenni almeno, rispetto all'emancipazione italiana. Tieni conto che che non nell'Africa centrale, ma a Malta, la legge sul divorzio è passata, o ancora oggi, credo che la legge sul divorzio sia in vigore, cioè non è possibile separarsi, o appena è stata promulgata una legge liberale in questo senso. Quindi è tutto un continente, quello nostro europeo, dove ci sono ancora luci e ombre, su alcuni elementi che noi diamo per scontato, ma sbagliando, perché dandoli per scontati non li rinverdiamo come dovremmo, e secondo me fa parte appunto dell'azione politica e culturale. La domanda è perché non le fanno le donne che fanno politica? Perché le donne che fanno politica in realtà, che hanno certamente una sensibilità femminista, però vedo che malvolentieri intendono fare una difesa corporativa, c'è come l'idea appunto di non ghettizzare l'elemento femminile dentro una quota. E quindi è stata molto discusa questo punto. Se siamo pari, perché... Quote rosa, la discussione famosa sulle quote rosa che permettono alle donne, riservano alle donne una percentuale di posti nelle varie appunto nei partiti, nel sistema elettorale, nei CDA, cioè le leggi Golfo-Mosca che è scaduta da poco, di cui si sta parlando di nuovo per l'introduzione del... Quindi perché secondo te le donne oggi, siamo proprio qualche giorno dopo le elezioni europee, i dati ci dicono che le donne sono quelle nel grande calderone dell'assenzionismo, una fetta importante ha pesato l'assenzionismo femminile. Secondo te perché le donne oggi, che sono quelle che soffrono di più, invece non vanno a votare? Forse perché... Perché le donne in genere hanno un maggior accumulo rispetto agli uomini, quindi hanno valutato la situazione politica italiana e hanno preso le distanze. Questa è una risposta, diciamo, parziale. Perché non è stato centrale, non è centrale questo elemento in una campagna elettorale, cioè se invece si fosse sviluppato la necessità che il continente europeo promuovesse politiche virtuose per l'occupazione femminile, per il sostegno, diciamo, alle famiglie o il sostegno alle donne lavoratrici, eccetera, 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 se ci fosse una legislazione avanzata probabilmente ci sarebbe stata maggiore sensibilità da parte dell'elettorato femminile. Di più, perché poi i leader politici sono tutti uomini. Questo è il punto. Tranne Giorgia Meloni, che comunque dirige un partito che è uno dei partiti più maschilisti per eccellenza, o addirittura è maschilista nel titolo, perché si chiama fratelli d'Italia, perché non sorelle d'Italia. Per quanto lei rappresenti, lo dico, essendo totalmente distante sul piano ideologico, diciamo, dalla posizione della Meloni, però tuttavia lei rappresenta un ideal tipo di donna emancipata, nel senso che non è come la Le Pen, cioè la Le Pen deprime le donne, perché una donna così, diciamo, intollerante è qualche cosa di mostruoso, insomma, no? Mentre Giorgia Meloni sarà per ragioni, diciamo, di età, di anagrafica, perché non è una donna, paradossalmente potrebbe benissimo battersi per delle cause femministe, anche se non lo fa. altre figure, diciamo, che sono emesse recentemente, tranne la senatrice Segre, che è una figura simbolica della sofferenza del popolo ebraico e della memoria storica, per fortuna ancora vivente in Italia in questo momento. Oggi è senatrice, è una figura che è la presidente del Senato, mi sembra una figura abbastanza sbiadita, Oltretutto si fa chiamare il presidente, la presidente del Senato, quindi anche su questa battaglia terminologica che... E ci sono questi sindaci, adesso al di là di... su cui, devo dire, viene riversato fiumi di inchiostro sessista. Questa è la cosa che un po' mi infastidisce. Cioè, la donna che fa politica è francamente sottoposta a delle offensive che non si spiegano se non in una società arretrata. Non parlo di quello che hanno potuto dire sulla Boschi, ma vedo che il stesso atteggiamento viene riservato alla Raggi. Cioè, c'è un elemento molto antipatico che io lo sento, lo tocco a pelle, che c'è qualche cosa... E questo distanzia le donne anche dal mettersi nell'attività politica. Cioè, naturalmente, e poi ci sono questi uomini che stanno al governo che non sono poi in realtà dei grandi maccio, voglio dire, tranne Salvini, ma insomma, gli altri mi sembrano piuttosto degli uomini che sono affari loro. Le figure femminili onestamente sono figure che non danno la dimensione in realtà dei grandi successi che le donne italiane hanno avuto nelle professioni. non c'è un solo successo dei numeri... Tu sei un femminista? Potresti dire... Perché Pedro Sanchez quando i suoi comizi si dichiara femminista. Tu sei un femminista? No, io sono un socialista. Cioè... Feminista o no? Per me è sbagliato dire... Perché essendo io un uomo sarebbe anche sbagliato dire che sono un femminista. Nel senso che io sono per la... Io sono per la... Parità dei sessi sono perché non ci sia nessun uomo o nessuna donna che siano ombre di un altro uomo o di un'altra donna. Questa è una frase che lessi di un tale non mi ricordo che mi ha convinto ancora di più di diventare socialista. Prima ancora il fatto che fossi diciamo sfossinato dentro una casa di socialisti. Per me non c'era nessuna frase più emblematica di questa. Cioè l'idea dell'uguaglianza non fra gli uomini l'uguaglianza fra i sessi le razze che è un passo in avanti rispetto all'uguaglianza diciamo perché è ovvio che siamo diversi io e te ma ognuno è come l'uguaglianza sostanziale diciamo dell'uguaglianza perché se no diventa appunto uno slogan vuoto. Sì oggi le femministe diciamo più evolute parlano di di diritto umano il diritto del pari opportunità quindi che rientra un po' nella sfera generale di abolizione di tutte le barriere che ci sono sia appunto sul sesso ma anche sulla religione sulla sull'etnia e tutto. In chiusura Bobo in questi giorni il regista Gianni Emilio sta girando appunto un film su tuo padre torniamo ancora un po' su tuo padre perché appunto è una figura che ci interessa molto e anche ci interessa molto la tua il tuo rapporto con tuo padre e il tuo essere figlio si parla sempre figlio di papà figlio di che cosa significa c'è molta anche curiosità e anche molta mitologia sull'essere figlio perché poi i rapporti padre figlio sono sempre dei rapporti sia che il padre sia importante o non famoso diciamo è sempre imperniato di umanità e degli affetti che sono dei sentimenti umani che prescindono dalla professione che svolge il proprio padre penso che anche tu con i tuoi figli che padre ti definisci? Qualcosa abbiamo letto però tu come ti definisci? Guarda io non lo so io sono ma come tutti sono veramente molto attaccato infatti però loro mi accusano di essere troppo sono apprensivo su questo non c'è dubbio sono apprensivo sull'affetto dovrebbero essere loro a giudicare sono molto apprensivo e poi sono sempre un po' preoccupato diciamo del loro futuro della società in cui loro vivranno però ecco devo dire che sono sono sempre molto felice e questo è un elemento di consapevolezza che credo che sia arrivato a un certo punto in maturità di di rinunciare a me per loro cioè io i sacrifici per loro li faccio molto molto volentieri quindi un po' ciascuno di noi no? tiene molto a se stesso o molto banalmente ci sono quelli che sono più egoisti di altri sì e magari i figli a volte risentono del tuo egoismo tu non te ne accorgi ecco io però sono assolutamente convinto di 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 continuare a darmi molto di più e sono ben felice di farlo insomma non non in genere è verso l'altro non vorrei apparire troppo insomma la mia generosità insomma in genere io insomma sono molto propenso a guardare più gli altri che me stesso nel caso dei figli ancora di più in maniera esponenziale io poi insomma a volte la gente poi per strada magari mi ferma ma tu sei figlio di Craxi io purtroppo purtroppo non sono il padre ormai di Craxi nel senso di un altro Craxi e torniamo poi rispetto al film in chiusura ecco questo film ci racconti qualcosa che ruolo che ruoli tu se hai avuto un ruolo nella costruzione di queste figure paterne questo no 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 io sono solo stato informato diciamo dell'esistenza di questo film ho guardato insomma per legge insomma erano obbligate a chiedere diciamo la mia la nostra liberatoria liberatoria ho fatto naturalmente con dovuto rispetto le mie le mie obiezioni del caso poi alla fine pur avendo fatto le mie obiezioni del caso penso che non sarà un'ora e mezza diciamo di cinema a cambiare nel corso della storia in un senso o nell'altro o a stravolgere la storia che tutti conoscono dopodiché penso che il regista sia un grande regista che l'attore sia un grande attore l'ho incontrato sul set perché sono venuti a girare Pierfrancesco Favino amato da tutte le donne italiane sì io l'ho visto l'ha truccato dal mio padre i collaboratori di casa che stavano lì quando l'hanno visto hanno avuto delle vere e proprie crisi di pianto perché lo vedevano a girare dentro casa effettivamente era amato tuo padre dalle persone insomma sì ma insomma poi le persone di casa cioè di quelli che lavoravano a casa insomma non sono tante insomma quelli che lavoravano a casa hanno vissuto delle giornate io sono stato mezzo pomeriggio perché sono veramente perché il film in parte è girato da Mamette sì è girato da Mamette sono venuto a girare qualche scena due o tre scene a casa mia ma non tutte soprattutto ho girato altrove e io un pomeriggio sono stato perché succedeva Pasqua quindi sono andato giusto a salutare a meglio e ho incontrato anche Favino il mio papino e mi hanno raccontato che faceva ore di trucco fa ogni sul set per andare sul set era sottoposto a tre o quattro ore di trucco pare che la somiglianza appunto come dicevi sia incredibile sì certo io poi con grande rispetto li ho lasciati lì insomma erano loro in quel momento i padroni di casa quindi assolutamente non ho nessun legame se non appunto il fatto che sia un film su mio padre e aspetterò come tutti diciamo di vederlo e tua madre che cosa dice? no no mia madre esattamente come ti ho detto prima essendo una persona molto riservata è stata molto non è molto interessata diciamo insomma ha vissuto gli ultimi 20 anni insomma anche abbastanza del dolore perché poi è rimasta ad avammetta vivere tra l'altro era anche abbastanza infastidita perché ho dovuto tornare in Italia per lasciare appunto la possibilità di girare poi è venuta in Italia in un periodo quanti anni ha tua madre nel 34 no lei sostanzialmente non ne vuole più sapere da un certo punto di vista io comprendo la sua non ne vuole più sapere in assoluto ma insomma è stato un periodo talmente turbolento della sua esistenza insomma che lei non vuole vivere in una dimensione diciamo del tempo di ricordi che la che la che la che la congelino da un certo punto da questo punto di vista è stata ha reagito ma d'altronde però non ne vuole più sentire parlare ecco insomma no non è mio padre non vuole più riaprire nessun tipo di di cassetto ma in realtà è successo lo raccontavo l'altro giorno anzi l'ho scritto a proposito ricordando già l'idee michelis che è scomparso da poco cioè dopo quella vicenda noi socialisti tutti quanti penso insomma dai dirigenti abbiamo cercato di metabolizzare quello che avvenne che ha avuto delle implicazioni sull'esistenza di ciascuno di noi cercando di rimuovere perché la rimozione in fondo come si sa nella storia è stata una specie di guerra dove abbiamo perso naturalmente i reduci anche se non li considero tali ma insomma chi ha partecipato a delle vicende molto traumatiche in genere tende a voler dimenticare o non parlarne si vuole lasciare esattamente un tempo tale per cui di quella vicenda lì è meglio non parlarne nel bene o nel male infatti è raro che faccia dei dibattiti su Tangentopoli piuttosto che l'ho anche fatti mi sono sottoposto a questa specie di tortura cinese però adesso lo faccio in modo molto più diciamo molto più scalzonato anche molto più politico senza penso che il tempo ma in quel periodo sta alle nostre spalle ho le mie idee su quello che avvenne quelle idee sono divisorie magari molto meno nel paese mi fa piacere che a vent'anni di distanza ci sia un'analisi di fondo su quella classe dirigente che non rispecchia l'enfasi con cui la si liquidò cioè assegnandola e bollandola come una classe dirigente esclusivamente dedita al diciamo così alla rapina di stato in realtà si è capito che erano uomini politici di un certo valore hanno costruito la democrazia di questo paese che avevano una cultura politica che era del loro tempo insomma che erano figli tutti appunto nati negli anni 20 anni 30 figli dei figli della guerra quindi insomma erano figli della guerra quindi tutto sommato parliamo di un'altra generazione quando vedo che De Mita fa il sindaco io sono felice appena stato eletto sindaco capisco che la ragione per cui diventa sindaco ci dia con De Mita oltre che naturalmente è viva per la sua longevità c'è forse un po' un rimpianto non proprio nella formazione che si aveva nella capacità di essere uomini di Stato uomini e donne anche di Stato però certamente una cultura politica sicuramente forte che oggi probabilmente manca anche questa disaffezione di cui si parlava la politica questa capacità di dedicarsi proprio interamente alla causa politica però io ammonisco indietro non si torna no assolutamente nel senso questo il solo futuro ha ragione e quindi bisogna sapere portarsi appresso tutto ciò che in realtà c'era di buono e lasciare naturalmente tutto ciò che c'era di sbagliato o di negativo alle nostre spalle secondo me questa è la cosa che devono fare i testimoni di questo tempo che vivono ancora questo tempo e soprattutto coloro che sono legati a delle tradizioni che hanno fatto grande il nostro paese siano essi al governo che all'opposizione in particolare la nostra che è una tradizione diciamo che ha più di un secolo di storia quella del movimento operaio insomma non stiamo parlando di una cosa così di una piattaforma telematica l'ultima domanda veloce sei ottimista? nella vita o la situazione italiana? nella vita e nella situazione italiana? guarda il tono dell'intervista è stato tutto improntato diciamo alla serenità però ti devo confessare alla fine che non sono né per l'uno né per l'altro per quanto diciamo sono sereno però bisogna essere anche bisogna guardare con ottimismo al futuro però non vedo non vedo delle ragioni per esserlo se penso che vi sto vivendo in Italia nel 2019 e oggi a una settimana dal voto ecco no non sono molto attivisti noi ti ringraziamo tantissimo tutta la redazione della D ti ringrazio per questa bellissima intervista che ci hai rilasciato ci rinnoviamo l'appuntamento quando l'invito a venire con noi in questa trasmissione che parla appunto non solo di donne che cerca di dare una lettura della società italiana in maniera diversa ecco in maniera più approfondita avendone anche la possibilità di farlo e il tempo grazie Bovo e grazie a tutti per l'attenzione a presto alla prossima puntata a presto